Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, per tutto voglio dirvi grazie a tutti per il supporto che ci state dando perché grazie a voi il canale cresce giorno dopo giorno ormai si può dire che è una guerra aperta fra ministro dello sport e chi comanda il calcio e il basket perché domani, se non mi sbaglio, ci sarà questa riunione fondamentale per decidere se davvero il ministro farà questa agenzia esterna che controllerà i bilanci delle squadre di calcio e di basket sarà fondamentale quell'incontro di domani ma voi, prima di tutto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci con il mi piace, commenta e descrizione per voi è tutto, grazie, ma per noi è fondamentale perché cresciamo come canale portiamo nuovi contenuti, nuovi format, ma soprattutto possiamo portare dagli ospiti e altra cosa importante, abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra che parliamo di tutto, tranne che di calcio, in questo periodo parliamo tanto di Giro d'Italia e abbiamo i canali social, tutto quello che creiamo è creato da noi allora, il problema qual è? il ministro Abodi vuole mettere questa agenzia politica fuori dal cerchio della FIGC che prenderebbe il posto della Coviso cioè la Coviso è quella agenzia che va a controllare tutti i bilanci delle squadre però il problema è che cos'è che dice il ministro? che la Coviso fa parte sempre di quel cerchio dello sport, del basket loro vogliono creare una cosa esterna, un garante esterno che fa parte della FIGC perché alla fine il presidente della Coviso è sempre eletto dalla FIGC e lui dice, sì, la Coviso va a controllare però la persona che voi mettete al comando viene sempre dalle vostre parti dalla federazione noi vogliamo un'agenzia esterna per controllare tutti i bilanci ma io non riesco a capire una cosa il problema qual è? se la Coviso fa il suo lavoro giustamente lo fa un'altra agenzia esterna il problema qual è? mi viene il dubbio che in questi anni in questi anni qualche squadra è stata protetta questo mi viene a me il dubbio perché io mi ricordo che la Coviso non la sentivamo solo quando si parlava di Juve perché la Coviso alla Juve è andata a controllare fino all'ultimo centesimo di ogni bilancio che ha fatto la Coviso è negli ultimi 12 bilanci della Juve l'ha controllata dall'A alla Z il problema qual è? che se mettiamo un'agenzia esterna c'è il dubbio che qualche società qualche problema non lo so perché io non riesco a capire perché poi dicono che la politica non deve entrare nel mondo dello sport che lo sport deve essere libero non deve avere margini non deve avere influenza politica verissimo mi sta bene pure però quando vi conviene la politica deve intervenire o no? cara UEFA perché poi è intervenuto addirittura un comunicato di UEFA e FIFA che se l'Italia farebbe una cosa del genere può essere che l'Italia come nazione calcistica verrebbe punita cioè esclusione del mondiale esclusione dei impegni europei ma come? voi volete che la politica non interviene nel calcio però nel momento in cui nel momento in cui era nata la Superlega Ceferin cosa aveva chiesto? l'aiuto della politica l'aiuto dei governi allora non è che i governi devono intervenire solo quando vi conviene a voi perché per fermare la Superlega deve intervenire il governo ora che il governo vuole intervenire per capire se la Confiso sta facendo il lavoro giusto o sbagliato ma è possibile che questa agenzia può dire pure che il lavoro della Confiso è tutto giusto che non c'è niente di sbagliato il problema iniziale qual è? che la politica non deve intervenire quando però vi fa comodo come il fatto della Superlega la politica deve intervenire non è così non è che la politica deve intervenire quando vi conviene poi è sergato di Polcinella che la politica è già nel calcio è già nello sport è un sergato di Polcinella già la politica comanda nel calcio però il problema qual è? che ora non conviene perché? perché viene tolta la Confiso o avete qualcosa da nascondere oppure non so io vediamo cosa succederà domani nel frattempo c'è ormai la spaccatura nella Lega Calcio ci sarà pure il presidente della Lega Casini domani alla riunione però con meno potere perché perché le quattro squadre più importanti italiane Juve Inter Milan e Roma hanno fatto un comunicato in cui dicono che quasi non vogliono essere più rappresentate da Casini e hanno ragione signori miei queste quattro squadre hanno chiesto una cosa di importante ridurre la Serie A da 20 a 18 squadre però con tutto il rispetto se il voto della Salernetana del Frosinone di qualunque altra squadra conta quanto quello di Juve Mila Inter Roma la Serie A resterà sempre a 20 squadre e il problema è che non può essere così perché queste quattro squadre portano il 70% dei ricavi della Serie A e tutti e gli altri 30 lo portano tutte le altre squadre e tu non puoi una squadra che ti fa sopravvivere una squadra che ti porta soldi contare quantuno che non te ne porta e il problema è proprio questo questa Serie A a 18 squadre è uno scandalo a 20 squadre scusate è uno scandalo perché da due giornate tutti quanti ci lamentiamo che ci sono partite che sono quasi non dico pilotati non dico questo però essendo che squadre colmanno la salvezza non hanno più niente da chiedere al campionato scendono in campo con la testa c'è in vacanza è da due giornate che ci stiamo lamentando che vediamo partite inutili poi ci lamentiamo che non riusciamo a vendere diritti e grazie al coso signori se noi noi abbiamo esattamente da febbraio squadre 3-4 squadre 5 squadre che non hanno più niente da chiedere al campionato che stanno in quella terra di mezzo che non retrocedono e non vanno in Europa e quando scendono in campo giocano tanto per giocare possiamo vendere diritti per me per me è giusto riportare la serie A 18 squadre è giustissimo così porti un nuovo squadre a competere per tutto non vedi non vedi squadre a febbraio che non hanno più niente a chiedere al campionato però questa riforma non la farà mai perché ci sono quelle squadre che sanno che se ci sono 20 squadre in serie A loro se hanno i giocatori forti li possono vendere possono guadagnare 70-80-90 milioni di euro con 2-3 giocatori forti che li vendono e li rimpiazzano con giocatori che vanno a pagare 5 giocatori 20-30 milioni tanto sanno che stanno dal decimo dal decimo al 14esimo posto la zona è quella loro e non borranno mai il cambiamento perché hanno quella zona comfort che non la vogliono perdere la serie A deve cambiare la serie A ci deve essere una riforma e chi comanda deve andare a casa presidente della Federcalcio o presidente della Lega ci vuole il cambiamento ci vogliono persone che pensano già al futuro persone che pensano solo a tenersi stretta la poltrona queste guerre fanno male al calcio l'abbiamo visto con la vendita dei diritti tv siamo la Quinta Lega siamo dietro anche alla Francia ed è tanta tanta roba siamo dietro alla Francia però poi ci lamentiamo ci lamentiamo che la partita da recuperare Fiorentina Atalanta si deve recuperare a fine campionato e tutti dicono il campionato è falsato e trovate la data con 20 squadre in serie A se invece tu diminuisci le squadre li porti a 18 porti la serie A competitiva a tutti i livelli e vedete che gli ingaggi soprattutto la prossima vendita dei diritti sarà una cosa secondo me eccezionale perché porti una serie A competitiva così hanno fatto in Francia e ci hanno superato sulla vendita dei diritti però in Italia ognuno pensa al proprio orticello comunque guerra fra ministro e fedel calcio e fedel basket guerra nella Lega ci sarà una fine stagione davvero davvero complicato per i vertici dello sport dite me la vostra sotto nei commenti ciao